C'è il rafforzamento della formazione per i docenti che svolgono le funzioni di tutor dedicate all'alternanza perché offrono percorsi di assistenza sempre più migliori a studenti e studentesse. Anche questo è un punto di responsabilizzazione, sappiamo che questo significa processi ovviamente, però anche questo deve far parte di una scelta coerente e conseguente.